I report di Webroot. Dalla console GSM di Webroot Secure Anywhere si possono generare dei report andando nel tab report. I report possono essere generati su richiesta, quindi al volo, e possono riguardare tutti i siti o un singolo sito all'interno della nostra GSM. Questi report che cosa ci descrivono? Per esempio le versioni dell'agent installate sullo standpoint o le minacce rilevate o i software sconosciuti rilevati possono riguardare non solo endpoint protection ma anche DNS protection, per esempio le categorie bloccate ai domini, o anche security awareness training. Oltre a essere generati su richiesta al volo, i report possono anche essere generati sulla base di una schedulazione. In questo caso si parla di report programmati e una volta che sono stati generati i report rimangono disponibili per il download 90 giorni. I report sono anche aggregabili, per esempio quando si parla di modelli ci si riferisce al fatto che si possono aggiungere più report semplici, collegare più report semplici a un unico report collettivo e si può scegliere di farselo inviare via mail in formato PDF o in CSV per importarlo in Excel. I report di Webrod non sono semplicemente delle cose da leggere, ma dai report, vediamone uno su richiesta per esempio, per esempio sulle minacce rilevate negli ultimi 90 giorni su tutti i siti, un report di questo tipo non è semplicemente da visualizzare, ma ci consente una volta che è stato generato anche di compiere delle azioni. Per esempio vedo che qui c'è stata una minaccia che è stata rilevata, io posso scegliere direttamente dal report di ripristinare il file dalla quarantena o di creare un override a partire da questo file.